eccoci ben ritrovati e soprattutto buon Thanksgiving Day in ritardo a tutti perché ieri in America c'è stata questa festività tanto che nella notte cosa che non capita spesso in NBA non si sono giocate partite questo ci facilita anche noi il lavoro così abbiamo già preparato le cose un po' in anticipo quindi come sempre per questa nuova puntata avremo tanti temi da trattare come sempre avremo le notizie principali della settimana come sempre avremo il nostro approfondimento ma soprattutto come sempre abbiamo il nostro compagno di viaggio Daniele Pozzoni. Ciao Dani come stai? Ciao Ste, è tutto a posto? Ho appena finito di mangiarmi un bel tacchino anch'io intero ovviamente da solo e a parte gli scherzi ci diciamo... No infatti potrei addormentarmi prima diciamo che appunto ogni tanto anche una notte di pausa ci aiuta per mettere un po' in ordine le cose anche perché ormai abbiamo fasi superato tutti i team hanno superato le 20 partite quindi possiamo iniziare a dire non so se sei d'accordo che queste analisi che stiamo facendo non sono più basate su numeri di qualche partita ma iniziano ad essere un po' veritine rappresentative di quelle che potrebbe essere la NBA di quest'anno, la regular season di quest'anno anche se poi sappiamo benissimo che da febbraio con la trade deadline inizia una sorta di altro campionato però mettere i treni in cascina o partire male in Philadelphia potrebbe essere deleterio Esatto ma possiamo anche dire che inizio già a vedere come le mie previsioni di inizio anno siano tutte sbagliate, questo mi... Ah beh è chiaro Mi rende felice quasi sapere che come ogni anno sbaglia... No dai, alla fine l'altro anno è andato bene, speriamo che anche quest'anno siano andate bene anzi andranno bene, partiamo Dani come sempre con la prima parte della nostra puntata che è quella dello starting five, quindi vi proponiamo le cinque notizie più interessanti più importanti, quelle che secondo noi sono più da discutere della settimana come primo, anche questa settimana si vede che l'ho scelto io perché c'è il ritorno di Porzingis in quanto è per me una notizia molto importante anche perché me lo sono goduto in diretta come ti ho detto volevo andare a dormire all'una, alla fine sono andato a dormire alle quattro perché Tristat Porzingis tornava contro i Los Angeles Clippers non so se hai visto qualcosa eccetera però si è già fatto sentire sui due lati del campo la sua presenza sia con i punti come sempre ma anche con due stoppate di importante valore Sì al di là dei numeri che ha raccimolato in questa prima partita e comunque appunto come hai detto tu è l'esordio stagionale quindi sicuramente la forma non è ancora delle migliori deve mettere minuti nelle gambe però il centro lettone è sicuramente il pezzo del puzzle che è mancato finora a Boston, l'abbiamo visto la scorsa regular season ma soprattutto ai playoff ricordiamo che tra l'altro Porzingis nella serie finale non è neppure stato della partita sempre io ho ben in mente gara 1 e ho ben in mente quanta superiorità avessero manifestato i Celtics in questa prima gara è chiaro che aggiungere anche Porzingis al puzzle dei Celtics è una roba che non tutte le squadre possono permettersi e è il motivo per cui ancora oggi 29 novembre 2024 credo che i Celtics siano nettamente sopra qualsiasi altra squadra est o ovest che sia non so tu se sei d'accordo se vuoi fare le dovute scaramanzie e fai tutto ciò che devi fare però penso che sia abbastanza palese a tutti questo ecco beh direi che soprattutto con la partita contro i Clippers si è dimostrato questa superiorità non tanto perché semplicemente vabbè la squadra ha vinto l'altro anno e sta continuando a vincere ma perché proprio ha messo in campo un gioco che anche dal punto di vista dell'avversario era immarcabile perché come ti avevo detto anche dopo la partita dagli audio fare 51 punti in un quarto con 8 triple su 8 per iniziare poi 12 su 17 alla fine del quarto con record tra l'altro all time di franchigia di triple in un quarto capisci che sia è una cosa che non ti succede tutti i giorni e vabbè però capire che hanno questa potenzialità di farlo e che lo stanno facendo con continuazione è convincente di sicuro per tutta la squadra e poi nonostante abbiamo spesso detto che non sia un grande difensore in quanto giocatore singolo Christoph Porzingis quello che porta però all'interno della squadra in difesa è tanta roba secondo me quindi anche da quel punto di vista ovviamente sarà importante però infatti ci tenevo a sottolineare anche questa cosa cioè abbiamo parlato spesso dell'apporto difensivo che ha Porzingis ma abbiamo detto anche settimana scorsa il problema con i Celtics e marcarli anche in attacco ovviamente e da questo punto di vista Porzingis allarga ancora di più quel campo che è già larghissimo per le spazzature dei Celtics perché è un tiratore da tre fenomenale e quindi va comunque a migliorare la situazione che si ha a livelli celestiali non solo e non soltanto per il numero di triple che i Celtics tirano ma per appunto la qualità di questi tiri esatto però non c'è stato solo il ritorno in campo di Christoph Porzingis perché siamo felici non so quanto felici però di annunciare un altro ritorno in campo perché era ti dico da maggio 2022 che non giocava in NBA tanto più titolare ed è eccolo qua il nostro Alfred Payton uno dei più famosi più per le capigliature che aveva in campo e che ha in campo che per le partite che effettivamente faceva ma in realtà guarda qua che tabellino che ci dimostra prima partita e ritorno a New Orleans da titolare 14 punti 7 rimbalzi ma soprattutto 21 assist non so te lo aspettavi? ma fuori difficile sicuramente no più che altro l'idea che la notizia sta nel fatto con tutto rispetto per Payton che New Orleans debba far giocare Payton perché purtroppo nella città del Jets c'è male male c'è qualche problema a mettere in campo una squadra competitiva perché sono tutti rotti l'altra sera pure Ingram quindi quella che doveva essere forse la stagione e mi sarebbe molto piaciuto commentarla di coronamento del percorso dei Pelicans sta diventando addirittura un inizio di un nuovo capitolo terribile perché non andare ai playoff potrebbe voler dire dover iniziare a fare dei ragionamenti sia su Ingram che su Zion e quindi questa notizia serve più almeno dal mio punto di vista a dirci questo posto che comunque il ragazzo ha fatto una super prestazione immagino già i commenti di chi le invieno la ama dove dice ecco il primo che passa per strada fa 21 assist pensa che difese sì e no potrebbe anche essere vero comunque un conto se ne avesse fatti 5 21 direi che testimoniano il fatto che comunque qualche cosina sul campo da basket e Alfred Payton la sappia fare sì tra l'altro ennesima partita persa da New Orleans che se non sbaglio si trovano al fondo della classifica dalla parte della Western Conference ma contando tutte le difficoltà che stanno avendo in quanto uomini e anche in quanto lo stesso Zion Williamson del quale si sta iniziando a parlare che non è così convinto comunque la società di innovare il contratto comunque ci sono anche problematiche riguardo poi al massimo salariale eccetera in base alle poche partite che sta facendo di sicuro non è la situazione ottimale per questi New Orleans Pelicans però di sicuro ne parleremo ancora nelle prossime puntate forse ne parleremo anche un po' già in questa dopo riguardo ad alcuni giocatori passiamo adesso al terzo punto guarda qua questo ci diverte sempre perché sappiamo che poi sarà la puntata quella dell'All Star Game in cui potremmo finalmente dire i nostri preferiti ruolo per ruolo però non so se hai visto so che hai visto perché me l'hai detto anche tu ma stanno iniziando ad uscire sempre più novità riguardo all'All Star Game 2025 perché probabilmente sei d'accordo anche tu soprattutto gli ultimi anni hanno non è che hanno dato proprio tutto questo spettacolo che ci si può attendere di solito da una partita del genere sì c'è stata questa notizia appunto della riforma dello Star Game che probabilmente verrà l'affrontarsi di quattro squadre di non più neanche Est e Ovest perché sappiamo che non era più diventata nemmeno Est e Ovest ma ci saranno appunto queste quattro squadre dove che si sfideranno in una sorta di torneo compresso di semifinale e finale ti dico tra le possibili rivoluzioni forse questa potrebbe anche non essere male c'è sempre da tenere presente ne abbiamo parlato l'anno scorso se ne parla tanto quando si parla di Ovestar Game che è evidentemente ancora più un'esibizione di quanto non sia mai stata ecco l'Ovestar Game perché è in mezzo alla pausa dove gli altri 900 giocatori NBA riposano dove queste stelle sono convocate a questa partita che è appunto un'esibizione sicuramente ne riparleremo meglio a febbraio però diciamo che quantomeno l'NBA non si accontenta di vedere il calo dell'evento cioè le strade per provare a riformarlo ci sono tutte ecco preferisco una Lega che prova a sperimentare piuttosto che una Lega che sta ferma ma su questo non avevamo alcun dubbio riguardo all'NBA perché sappiamo essere sempre all'avanguardia esatto tra l'altro così per aggiungere si dice che una delle quattro squadre che ci saranno sarà composta da quella che vincerà la partita delle matricole quella tra rucchi e matricole e rising stars quindi sarebbe ancora più interessante perché comunque metti già probabilmente persone ragazzi giovani atleti che sono fortissimi e che hanno voglia di dimostrare perché ovviamente se sei in una gara del genere hai più voglia magari di altri come i Lebron e i Curry che per quanto siano ovviamente le stelle i leader anche guardando la serie tv Netflix starting five c'è Lebron che forse riguarda lo star game dice tipo io vorrei solo riposare sono distrutto e devo anche andare a fare 8 milioni di interviste 100 mila allenamenti eccetera e quindi non è così semplice comunque soprattutto in questo periodo in cui le partite sono sempre di più però ne riparleremo sicuramente di questo tema come hai detto tu verso febbraio faremo anche tanti giochi legati quindi non vediamo l'ora comunque dal nostro punto di vista che arrivi quel periodo per le ultime due per gli ultimi due temi invece lo starting five abbiamo scelto un po' di parlare di tematiche già in vista di premi sia settimanali che di fine anno eccolo qua di solito non parliamo del player of the week anche perché è una ogni settimana beh cambia ogni settimana sono di solito i migliori no dell'NBA in questo caso abbiamo scelto di citarlo perché è un nome particolare molto particolare tanto che io pensavo fosse tinito quando ha vinto l'anello con il gol di estate ma invece eccoci qua con Harrison Banos settimana da player of the week non so se se ci puoi dire qualcosa di più perché io stai io appunto lascerei silenzio a commentare questa la grafica parla da sé diciamo ecco la grafica è più bella che lui in campo però si tra l'altro quando mi hai mai dato il messaggio di Barnes giocatore della settimana ho detto ah beh ci sta è rientrato Scottie Barnes sta facendo bene effettivamente convintissimo convintissimo che il primo fosse per lui tanto l'ero che ho appunto ho messo la canota dei Raptors proprio per quello invece mi ritrovo con Harrison Barnes e dico allora ti dico due statistiche sul perché gliel'hanno dato così ecco perché infatti ho detto sicuramente che è molto più sul pezzo da questo punto di vista avrà recolto delle statistiche perché sicuramente il riconoscimento è meritato e spero che la tematica l'ho scelta io almeno se ho preparato due statistiche vabbè intanto San Antonio di squadra ha vinto tre partite su tre nella settimana scorsa in cui è stato premiato Harrison Barnes tra cui contro Golden State e OKC cosa abbastanza inspiegabile per Harrison Barnes in assenza anche in alcune partite di Wemba Niyama 22 punti anzi oltre 22 punti di media otto rimbalzi e vabbè quasi due assist quindi direi una prestazione insieme anche a quelle di Chris Paul da veterani veri di una squadra un po' in difficoltà in certi momenti quindi so è questo motivo assolutamente no ma poi al di là degli scherzi comunque sicuramente come hai detto tu nelle tre vittorie il suo contributo è stato importante è un giocatore che abbiamo detto tante volte di contorno è sicuramente ormai appunto come hai detto tu un veterano ma è solido cioè nel senso sai cosa ti può dare sai che ti darà quello e in una squadra come gli Spurs che stanno iniziando a girare in maniera diversa rispetto all'anno scorso sicuramente è un complemento di livello sicuramente questo sì esatto ultimo punto invece anche qua si parla di nuovo di ladder in questo caso non di MVP ma di rookie of the year vediamo dalla foto perché ancora una volta jerem mccain al momento è il numero uno favorito dietro di lui ci sono stefan castle e wells di memphis anche lui parleremo dopo tu avevi già parlato le scorse puntate sia di castle che di mccain sono due giocatori che ti piacciono molto pensi che verso fine della stagione saranno ancora loro due a giocarsi questo premio sì si parlava tanto all'inizio di zakidei per questo premio perché sembrava quello più pronto sicuramente continua ad esserlo lo vedremo anche dopo appunto parlando di di memphis però diciamo che l'apporto nelle statistiche che poi nei premi hanno comunque una valenza non è così elevato invece questo ragazzo detto tiktoker perché si veniva conosciuto più per idola video su tiktok che per quello che faceva in campo da quando anche lì grazie all'epidemia di infortuni di cicadelfia sta sfornando prestazioni su prestazioni e l'avevamo detto quindi diciamo che nei pronostici ogni tanto ci azzecchiamo pure noi attualmente si merita il premio e sicuramente se lo combatterà alla fine con con stefan castle io credo anche che nekt possa far parte della partita anche se è più soggetto magari a delle variazioni essendo un tiratore che quindi va dove dove va dove lo porta il tiro da tre punti gli altri due mi sembrano due giocatori più completi mcain tra l'altro idolissimo perché poi l'ho preso pure al fantabasket e mi sta dando soddisfazione l'una dietro l'altra quindi come faccio a non tifare per lui bel colpo direi però vabbè di sicuro ne parleremo ancora nelle prossime puntate vedremo poi come prosegue anche il ladder del rookie of the year a proposito anche in parte di questa starting five vogliamo passare ai primi giochi della puntata in questa puntata abbiamo scelto di fare due giochi distinti nella prima parte uno sono io che ti propongo una breve sfida come già vedete in via grid dopo invece sei tu a propormene un'altra che ci spiegherai questo qua come vedi è una di quelle sfide che si vedevano spesso si vedono spesso anche magari online su tiktok eccetera dove ti do una griglia con da una parte due squadre ho scelto le nostre due squadre perché ho scelto Boston ok si dall'altra invece due temi di cui abbiamo parlato nello starting five quindi giocatori con almeno 20 assist e all star game quindi MVP dell'all star game non dovrebbe essere complicato sono partito piano visto che è la prima volta però se vuoi partire decidi tu quale griglia vuoi scegliere vai ma il gioco consiste anche cioè non devo utilizzare due volte lo stesso giocatore giusto esatto esatto ok allora sinceramente non mi ricordo se Jason Tatum ha vinto un MVP dello star game quindi vado sul sicuro perché quello credo l'abbia vinto spero anzi e penso che Larry Bird un MVP dello star game l'abbia vinto non so se era lui la risposta però credo che nella sua onorata carriera il buon Larry un oi dello star game l'abbia piazzato direi che se devo dirti erano giuste entrambe quindi puoi scegliere quello che vuoi tu per fortuna ho scelto Larry Bird e Jason Tatum no è sbagliato ma vabbè proseguo proseguo nel gioco e ti dico che 20 assist a Boston solo un uomo può averli fatti che è il signor lo scienziato del gioco il giocatore che si dimenticava come tirare e poi sapeva benissimo tirare tre punti da una settimana con l'altra ed è Rajon Rondo che è un idolissimo di infanzia che continua ad esserlo e tra l'altro risabordiavolo adesso assistente allenatore di Doc Rivers e sicuramente nelle ultime 5 vittorie consecutive sono sicuro che Rondo abbia fatto qualche aggiustamento tra l'altro uno dei pochi giocatori è di aver superato i 20 assist a partita più e più volte almeno 4 volte a partita quindi per Boston ci siamo ora tocca allora so che sì sarei stato sicurissimo per entrambe con Russell Westbrook perché sono sicuro che abbia fatto una partita da 20 assist e sono altrettanto sicuro che abbia vinto un MVP dello Star Game segnando tipo 50 punti eguagliando il record di Cemmerle non mi ricordo se è stato io o Anthony Davis comunque uno dei due ma mi ricordo una partita in cui dello Star Game in cui praticamente c'era Ras che passeva avanti e indietro a navetta o dal campo per fare sto record di punti che poteva interessare però poi c'è solo in uno dei due punti infatti lo scelgo lo scelgo nei 20 assist per la partitella da 20-20-20 dici esatto esatto e poi come MVP dello Star Game ti dico Kevin Durant non sono sicuro in realtà che l'abbia vinto però anche lì c'è solo c'è vado sulla grandezza del giocatore e ti dico che secondo me uno l'ha vinto è giusto giusto direi che 4 su 4 bello solido perfetto nonostante ci fossero i Celtics in questa in questa in grado gioco però c'erano comunque due idoli come Jason Tatum e John Rondon no infatti infatti quindi bello mi è piaciuto lo utilizzerò anch'io con te sicuramente bello questo gioco vediamo adesso adesso tocca a te io sono stato spero altrettanto all'altezza nel trovare un gioco carino come puoi vedere le due sono altre rilancate ci sono anche qui che sono ok sia appunto i Celtics le altre tre sono Cleveland Memphis e Houston il gioco che ti propongo è a sinistra vedi una serie di statistiche che sono in particolare punti per partita 123.5 assist per partita 30.1 rimbalzi per partita 50 net rating quindi differenza tra offensive e defensive rating di 10.7 e defensive rating di 103.0 quello che devi sapere prima di partire con il gioco è che tutte queste statistiche appartengono alla prima in classifica della statistica citata quindi tutte le squadre questo ma iunga direi in questione sono al primo posto non sono stato così cattivo nel darti 5 stati siamo dagli dubbi completamente a caso quindi tu devi sapere ovviamente le 5 squadre prima in classifica sono le 5 che vedi nella grafica devi collegare praticamente la squadra alla statistica quindi decidi tu da quale partire io poi ti dirò se è giusto sbagliare allora io penso di avere una o due certezze dal punto di vista di chi è diciamo leader in alcune statistiche appunto tra queste squadre qui la prima se non erro è che i Cleveland Cavaliers al momento ancora anche se sono seguiti da Boston sono la squadra che sta segnando di più nella NBA quindi i 123.5 partire dovrebbero essere di Cleveland Perfetto sono loro tra l'altro main completo poi ti lascio andare avanti volevo mettere anche l'offensive rating ma erano ancora loro quindi non sarebbe stato divertente d'altro punto invece passo all'opposto perché vado sul defensive rating che se non sbaglio anche lì Oklahoma è in testa al momento e sono le due sul quale penso di essere sicuro direi che sei sul pezzo quindi siamo a 2 su 5 corretto quindi puoi escludere Cleveland e OKC per le altre tre statistiche qui allora il gioco diventa potrecile ti vado un po' a 1 esclusione a 1 puoi arrivare a 1 ci puoi arrivare ti vado a ragionamento in base a un po' quello che vedo e quello che penso te le dico tutte e tre poi tu mi dici se le ho azzeccate dai e ti faccio anche il ragionamento allora secondo me net rating sta a indicare un po' la squadra anche migliore perché è quella che fa più punti che ne subisce meno quindi nel complesso io ti direi Boston perché penso che sia tra le squadre migliori analizzando in queste giornate le altre due squadre per fare poi l'approfondimento secondo me Memphis è la squadra con più assist perché diciamo che non è proprio una squadra di lunghi viceversa Houston potrebbe essere invece quella con più rimbalzi sono tutte corrette adesso la grafica dobbiamo sistemarla perché la freccia collega ok sia agli assist ma comunque va bene così sono tutte corrette è stato molto bravo si vede che guardiamo le partite incredibile un podcast di NBA che guarda le case e posso dire le cavolate scusate mi stavo uscendo la mezza parolaccia che non lo è bravissimo perché appunto mi è andata bene perché vai si no no niente tra l'altro su Houston di cui parleremo tra poco e di Memphis anche è un ottimo spunto il fatto di assist e rimbalzi perché vedremo appunto tra pochissimi che si differenziano molto per questo dato e quindi è interessante parlarne poi nell'analisi che faremo si io intanto passerei all'approfondimento che come dici tu si collega molto bene all'ultimo gioco fatto perché andremo a parlare di alcune di queste squadre più altre sono diciamo due squadre a testa che abbiamo scelto sia top che flop se così vogliamo definirlo comunque squadre un po' che stanno andando meglio e squadre che stanno andando peggio quello che volevo dirti che mi è andata bene riguardo al gioco perché non so se lo segui ma secondo me c'è un grande list NBA sia su Twitter che su Instagram che si chiama Kirk Goldsberry se non sbaglio che spesso il giovedì il venerdì mette delle grafiche molto interessanti soprattutto su chi è tra i primi posti sia come offensive rating che defensive rating quindi avendola vista in questi giorni proprio almeno due su due ero sicuro sulle altre ci siamo andati un po' a ragionamento però vabbè passiamo al nostro approfondimento di giornata come sempre e vediamo una squadra che so che piace molto a entrambi però voglio lasciarla introdurre a te perché so che è tra le tue preferite te la sei vista anche ultimamente quindi ne saprai sì me la sono vista e vi consiglio anche di vederla non tanto perché sia una squadra spettacolare anzi tutt'altro perché diciamo che nell'attacco a metà campo il signore in questione ma anche i suoi compagni quello che vedete in grafica diciamo che non sono proprio decisamente sul pezzo ecco nello scannerizzare le difese avversarie per ottenere ciò di cui hanno bisogno però sono uno spettacolo da vedere in difesa uno spettacolo in particolare due ragazzi dalla panchina Ament Thompson e Cary Heason sono fenomenali sulla palla e ve lo dice uno che vede ok sì praticamente ogni partita e quindi è abituato bene da questo punto di vita perché come abbiamo visto prima parliamo di ok sì come la miglior difesa ma Houston è a livello è a livello e anche e penso anche che non abbia al suo interno dei difensori individuali forti come sono attualmente quelli di ok sì e il motivo credo sia tutto in panchina penso tu lo sappia meglio di me visto che in panchina c'è il Meudoka che già con i Celtics era arrivato alle finance grazie proprio ad una difesa impenetrabile i Rockets non sono appunto la migliore difesa ma sono nelle lead dell'NBA e la cosa interessante rispetto allo scorso anno analizzando appunto questa squadra ho notato che l'anno scorso vincevano spesso contro le squadre più scarse e c'è più scarse con record negativo e quindi questa tendenza l'hanno mantenuta perché sono 7-3 contro squadre che hanno un record negativo e tra l'altro delle loro vittorie tra l'altro vincono anche con scarto molto ampio perché 8 su 12 vittorie che adesso il dato è da aggiornare perché sono arrivate a 14 sono con scarto di più di 10 punti ma tendono a vincere anche partite contro squadre con record positivo adesso è vero che il calendario che vedete in grafica le ha visti contro squadre non troppo forti perché c'è Houston però ci sono due volte i Clippers e hanno battuto due volte i Clippers di cui abbiamo parlato benissimo settimana scorsa è vero che hanno perso contro Miluocchi una partita molto strana tra l'altro perché è una partita finita punto a punto 101 a 100 dove hanno faticato molto in quello che dicevamo prima cioè nell'attacco a metà campo contro una squadra che di solito tende a coincidere molto soprattutto le Poing chiedere a Lillard in particolare perché vabbè sappiamo che sulla difesa point of attack cioè degli esterni non è proprio sul pezzo però poi hanno battuto Indiana hanno vinto e perso una volta con Portland hanno battuto Minnesota che ok in questo momento non è fortissima ma è una squadra di livello e hanno battuto Philadelphia quindi sicuramente il calendario li ha agevolati però attualmente sono al secondo posto ad ovest e l'abbiamo citato la settimana scorsa sia Eman Thompson che che già sì buonanotte è Tarison esatto che ho detto prima Tarison ma ovviamente c'è da citare Sangoon che sta tirando molto bene da tre punti non mi piace il paragone con Jokic però effettivamente è la cosa che gli si avvicina forse di più insieme a un altro ragazzo di cui parleremo dopo che è Sabonis comunque la tendenza è di utilizzare il centro come punto da cui partire per l'attacco e corrono molto quando corrono riescono ad avere punti in transizione riescono ad avere punti facili anche per controbattere appunto il problema che hanno su sull'attacco a metà campo io credo che lo step definitivo debba passare dal ragazzo in foto io ho visto recuperato la partita dove ha fatto 40 punti quindi diciamo che questo questo problema non l'ho visto in quella partita però è evidente che un suo miglioramento di Jalen Green è ciò di cui i Rockets hanno bisogno per poter competere a livelli alti però parliamo di una squadra giovanissima mi sembra di rivedere molto di ok sì e ti dico mi sembra di rivedere molto di Orlando con molto più talento a disposizione però sono due franchiche secondo me molto simili entrambi molto giovani forti già in difesa e sappiamo che la difesa vince i campionati più dell'attacco cioè l'attacco in qualche modo si può costruire la difesa è più difficile e la difesa finché non c'era il doca a Houston era tra l'altro uno dei problemi perché ne parlavamo come la peggiore due anni fa e oggi invece sono nell'elite NBA ho parlato un sacco sono curioso di sapere la tua potrei andare avanti a 10 minuti però sono curioso di sapere cosa ne pensi come direbbe stavo dicendo Flavio tranquillo i grandi attacchi vincono le partite ma grandi difese poi vincono i campionati comunque quello che volevo dire sulla mia esperienza un po' passata cioè di Imu Doca come coach di Boston ho visto delle similitudini non tanto nel gioco ma l'intelligenza che ha Udoca nel comprendere perfettamente chi siano i suoi giocatori in campo sia in campo che vabbè quelli dalla panchina e costruire un gioco attorno che sia più possibile legato al loro stile di gioco quindi non è uno di quegli allenatori che magari porta sempre la stessa idea di gioco che esistono in ogni sport anche nel calcio ci sono quegli allenatori che arrivano e ti propongono il loro modulo i loro schemi sempre mantenendo uguali e cercando di adattare i giocatori a quegli schemi in Udoca sembra molto che si adatti lui allo schermo comunque alle capacità all'atletismo degli stessi giocatori e questo secondo me è un plus importante che porta poi col tempo a creare delle squadre che siano fondate sui giocatori importanti per la stessa squadra mi leggo mi leggo proprio a questo perché è molto interessante l'attacco è vero che magari non è efficace ma come hai detto tu è studiato sui giocatori infatti Houston è una non so se l'unica ma la squadra che ha sette giocatori con doppia cifra di media in punti a partita sette giocatori in doppia cifra sono tanti per essere una squadra NBA vuol dire che la rotazione è ampia vuol dire che è di livello e ti lascio da includere poi andava a completare ciò che stavi dicendo si si è proprio quello che pensavo io si nota nei stessi giocatori e si nota anche però poi è necessario come dicevi tu uno step ulteriore da parte di quelli che devono essere i tuoi primi violini perché sennò non sei al secondo posto a pari merito di vittoria con OKC come in questo momento se non ci fosse stato uno step up da parte di Jalen Green ma anche di Sengun soprattutto nel trovarsi tra loro due in campo e secondo me questo è stato un po' la chiave il fattore che in questo inizio di stagione li ha portati a fare così bene e noi siamo felici di questo perché avevamo già detto prima dell'inizio dell'NBA che sperava in questa possibilità da parte loro un'altra squadra secondo me un po' per certi versi collegata come stile di idea che si è costruita all'intorno della squadra stessa sono i Memphis Grizzlies che è anche questa una squadra del quale abbiamo deciso di parlare la seconda nel nostro approfondimento come squadra diciamo in grande forma in questo momento nonostante le grandi difficoltà che sta avendo perché in questo momento Memphis sta avendo tantissimi infortuni sta avendo soprattutto la mancanza di Jamorant che è un giocatore ovviamente fondamentale all'interno della squadra adesso è di nuovo fuori nonostante sia tornato per una piccola contusione al ginocchio ma nulla di grave dovrebbe essere i dati che volevo portarti inizialmente sono intanto che è quarto posto a Ovest che abbiamo detto la difficoltà di Ovest è seconda nel ritmo quindi nel pace a partita ma è anche tra le prime sia per punti a partita prima tu mi hai mostrato Cleveland che era prima e subito dietro a Cleveland c'è Memphis e poi è quinta e settima in defensive e offensive rating se noi pensiamo ai giocatori che stanno giocando sembra incredibile perché possiamo vedere come molte di queste partite le abbia giocate Scottie Pippen Junior molte altre partite le stia giocando da titolare Santi Aldama che non è proprio il giocatore che ti aspetti doming l'NBA invece sta facendo molto bene sa che Dei ha fatto bene all'inizio poi anche lui si è infortunato quindi hanno dovuto trovare subito dei modi di di soddisfare i requisiti che servivano all'interno del ruolo dei lunghi e secondo me non so se sei d'accordo con me anche su questo qua volevo chiederti perché penso tu lo sia cioè si è visto anche in questo punto anche in questa squadra secondo me un po' come Mobley in Cleveland un passaggio diciamo un'elevazione del ruolo di Jaren Jackson Junior da ottimo difensore anche a minaccia offensiva secondo me è uno dei punti principali di questi Memphis Chris Sì tra l'altro mi ero andato a vedere le statistiche appunto proprio di Jaren Jackson per preparare un gioco che avevo in mente che poi invece non abbiamo fatto però proprio nel preparare la puntata su Memphis e guardavo il fatto che ha limitato di molto i falli a partita riesce finalmente a gestire quel corpo in una maniera più pronta e più adatta al ruolo che ha questo gli permette di avere un minutaggio nemmeno così alto ma di essere molto più efficace perché parliamo di una media punti tra le migliori che ha avuto in carriera quasi 22 a partita con un minutaggio però più basso rispetto al solito questo vuol dire appunto un'efficienza maggiore sicuramente il suo ruolo all'interno della squadra è cambiato e cambia nel momento in cui non c'è già Morant però è una squadra che negli anni secondo me ha sempre costruito una maniera giusta l'anno scorso è stata molto sfortunata sia per vabbè la squalifica ovviamente non deriva dalla sfortuna però poi una volta rientrato Morente si è fatto male quindi hanno un po' accantonato quel percorso che stavano intraprendendo di scalata verso l'Ovest dove ricordiamo cioè due anni fa hanno chiuso con il secondo miglior record erano usciti con i Lakers in una serie di primo turno che è stata una delle più belle da vedere ma l'anno prima erano usciti con Golden State che poi ha vinto il titolo quindi una squadra che purtroppo l'anno scorso non abbiamo visto ai playoff e sulla quale avevamo molti dubbi ad inizio stagione perché non sapevamo come si sarebbe presentata quest'anno beh la risposta credo sia molto molto importante in questo inizio perché come hai detto tu nonostante una qualità roster che c'è ma non è sempre disponibile sta rispondendo nella maniera corretta cioè con il quarto posto ad ovest con una squadra sul pezzo e credo appunto che tanto dei meriti vadano a Taylor Jenkins che tante volte è stato un po' criticato forse a oltre oltre ciò che meritava perché di nuovo parliamo di un piccolo mercato che sta continuando negli anni a restare competitivo grazie appunto da una squadra che ha sempre fatto sia della difesa ma come vediamo adesso anche dell'attacco nonostante appunto le persone roster di cui hai parlato vedere Santi con questo con questo con questa possibilità roster fa sorridere ma fa capire appunto la qualità della squadra sì tra l'altro per concludere su Memphis a proposito Taylor Jenkins sta sfruttando al meglio comunque i danni che stanno portando infortuni grazie anche ai giocatori che sta portando dalla panchina perché per dare un dato contro Detroit 72 punti di squadra sono arrivati dalla panchina cosa che è sicuramente un dato fuori dal comune e molto particolare anche perché uno su tutti Marcus Mart con 25 punti che quando gioca e quando si impegna è ancora un giocatore che sa ampiamente il fatto suo ma poi ricordiamo la statistica del gioco di prima cioè degli assist c'è una squadra che si passa al pallone e sono primi e vuol dire che amano condividerlo e lo fanno in maniera corretta quindi sono tanti sintomi che non sintomi perché sintomi è qualcosa di negativo sono tanti buoni esempi del fatto che la squadra è costruita bene è allenata bene e ha un buon futuro davanti e gli si augura a loro come a tutti che restino sani il più possibile perché sarebbe un peccato non vederli tutti quanti in campo esatto è il momento però di nuovo per te di splendere perché passiamo alla prossima squadra anche qua una non so se come squadra ma di sicuro come giocatore uno dei tuoi preferiti perché so che ogni volta che puoi lo guardi ti fa divertire eccolo qua il nostro la melo ball che ultimamente si sta anche improvvisando con nuove tecniche immarcabili da campetto infatti ho letto ho letto uno che scriveva sembra che stai giocando con le airpods perché di solito sai quasi che che fanno quei video dove fanno tutti quei trick ultimamente li sta mettendo anche in campo li sta giocando e non so secondo me è un grande giocatore questa è la forma fisica regge ma che sia un grande giocatore io non l'ho mai messo in dubbio non so tu ma ricordiamo che inizio anno un po' per provocazione avevo parlato di Charlotte come la possibile sorpresa dell'anno il concetto è finché questo signore inquadrato resta in campo Charlotte è una squadra competitiva è vero guardando il grafico non sembra che sia così perché parliamo di sette sconfitte e tre vittorie nelle ultime dieci il discorso è un po' che se posso partire una battuta io non l'ho mai messo in non l'ho mai messo in dubbio la forza di Lamello ma a quanto pare c'è chi ha preferito James Wiseman al draft sì vabbè diciamo perdere però vabbè ci sarebbe stato un piccolo conflitto di interessi con Nessar Curry però un backcourt Lamello Steph sicuramente me lo sei visto più che volentieri detto ciò detto ciò appunto tornando al discorso di prima Charlotte è anche un'altra squadra abbastanza sfortunata perché è la settimana scorsa la notizia che la terza riserva del centro che poi è Grant Williams che non è nemmeno un centro si è rotto pure lui quindi diciamo che la presenza sotto canestro di Charlotte è abbastanza limitata in questo momento ed è un peccato perché invece il backcourt comprendo Miller è di tutto rispetto e secondo me basterebbe ad ovest ad ovest ad est per arrivare quantomeno al play-in se non addirittura a un posto tra il quinto e il sesto cioè per me Charlotte ha tutto per poter rimanere lì ma soprattutto ha tutto perché signore inquadrato fa 31 punti a partita non so se ci rendiamo conto cioè 31 sono tanti alla lasciata di scarpe e lo fa tra l'altro commettendo falli uno più stupido dell'altro perché poi vabbè io lo adoro però cioè la metà delle volte va fuori per falli sto ragazzo cioè è incredibile questo ti fa capire un po' appunto questo è successo due volte su due contro Boston nelle ultime due esatto esattamente non è troppo lucido ma ti fa anche capire la volontà che ha di sbattersi perché tanti di questi falli sono falli di generosità diciamo per più che più che più che altro e quindi è un vero peccato e infatti nel gioco che faremo dopo io mi auguro che Charlotte possa dare alla Melo una squadra competitiva per l'est che sappiamo essere a un gradino sotto rispetto all'ovest e quindi abbiamo provato a immaginare io due trade per Charlotte tu due trade per la squadra di cui parleremo dopo perché se le merita dai al di là del dente d'oro se le merita questo ragazzo guardalo che bello che è fenomeno io ti dico purtroppo non vedo tutta questa positività in Charlotte te l'avevo già detto a inizio stagione però tu volevi anche nella NBA Cup metterlo come come primo quindi la persona guarda i viacini se ci pensi comunque cioè sì sì sono lì a pesarsela il passaggio al fondo sono lì a lottarsela al fondo un'altra squadra che invece mi dava tante aspettative ma che non le sta rendendo al massimo nel migliore dei modi è l'ultima di cui andremo a parlare prima poi del gioco finale nel quale come hai detto tu cercheremo di aiutare i GM delle due squadre per fare una scelta di miglioramento per il corso della stagione che sono il Sacramento Kings e quello qua di Domanta Sabonis lui sì che è uno dei giocatari che mi piace molto soprattutto per il suo modo di porsi anche fuori dal campo dell'impegno che ci mette è una squadra che però secondo me non so se sei d'accordo ci si aspettava un po' di più a inizio della stagione sembra però che in questo momento stiano cercando molto di creare uno schema che vada da due punti non so se questo sia dato anche dal fatto che sia arrivato il re del mid range cioè Demar de Rosan tanto che se non sbaglio i dati dicono proprio che sono la seconda squadra per punti da due dopo Cleveland Cavaliers anche proprio per percentuale però beh che sta mancando totalmente la fase fuori dall'arco il tiro da tre sia per i giocatori in generale che per quelli che dovrebbero essere specializzati in quello dico Werther di Pochegammarri su tutti stanno tirando entrambi con percentuali che sono sotto il 30% quindi è un periodo un po' negativo nonostante poi abbiano dei giocatori come Sabonis come Fox che stanno all'interno della stessa stagione facendo anche molto bene quindi Fox se ti ricordi aveva fatto due partite di fila superando i 100 punti in due partite tutte e due da 60 40 cose cose molto elevate e al tempo stesso Sabonis come sempre domina sotto canestro sia in quanto punti che assist che rimbalzi quello che sta mancando un po' è come dicevo il tiro da tre ma anche il fatto che Mike Brown dice che sta mancando l'abilità in certi casi di riuscire a realizzare gli schemi che si sono studiati in allenamento quindi non credo che adesso aver preso Crowder risolverà tutto però se Sacramento non si muove diciamo in questa Ovest rischia di rimanere indietro secondo me è un discorso che abbiamo già fatto per Sacramento che è un'altra squadra che comunque perlomeno ha dimostrato in off-season di provarci nel senso ha provato a mettere De Rosan avevamo parlato in fase di preview non dei dubbi ma comunque del fatto che si sapeva benissimo cosa Sacramento andava ad aggiungere e ancora più del passato probabilmente avrebbe giocato per fare un canestro in più degli avversari che non non in meno il problema secondo me appunto che l'efficacia di questo e l'efficienza di questo attacco non è quello sperato almeno almeno per ora il tempo per recuperare per recuperare ovviamente c'è però ad Ovest è un po' più complicata la situazione rispetto all'Est per provare a fare delle delle rimonte e il discorso diventa anche non più tanto solo sui giocatori che hai citato tu cioè i big three se così possiamo chiamarli i Fox Sabonis e Ederozan ma è su tutti gli altri nel senso che Werther non è la prima stagione che sta iniziando a far male al tiro Monk è vero che è stato lo sesto uomo dell'anno però inizia a inizio a dubitare del fatto che è un altro giocatore di quel tipo perché il discorso è anche che parliamo nei big three di tre giocatori come detto prima in attacco fenomenali però Monk è un altro giocatore che ti dà tanto in attacco ma poco in difesa Werther è un altro giocatore che ti dà tanto magari in attacco e poco in difesa almeno quando tira bene da tre punti Kigan Murray che sembrava essere un difensore eccezionale non sembra o quantomeno può essere anche che sia anche l'unico a sbattersi quindi giustamente a una certa non può essere non può essere l'unico quindi sicuramente io credo che il tema sia anche questo per Sacramento sono sicuro che se ti seguissero nelle proposte di trade che hai analizzato per loro si assolverebbero parte dei loro problemi infatti mi collegherei proprio a questo per concludere con il nostro gioco sapendo appunto che i Kings credo saranno una squadra molto attiva di nuovo sul mercato a febbraio sì tanto che se ne parla già spesso soprattutto in America del fatto che i Kings alcuni giocatori già siano stati messi sulla gratticola lo stesso Werther che interessa anche in parte a Golden State abbiamo provato nell'ultima parte di puntata a inventarci due trade possibili così da per le due squadre di cui abbiamo parlato in questa fase finale come vedi i miei due giocatori sono due giocatori che a me piacciono piacciono molto uno vabbè su tutti Cam Thomas e l'altro Derrick Jones Jr ovviamente abbiamo cercato di dare anche un minimo di senso qualcosa che sia fattibile perché ovvie dire potrebbero aggiungere Ted Curry e aiuterebbe però vabbè avrebbe poco senso ti spiego velocemente i miei due le mie due scelte da una parte Cam Thomas perché vabbè è uno dei migliori realizzatori in questo momento dell'NBA penso servirebbe una persona un giocatore anche in quel in quel ruolo che possa dare quel supporto da fuori all'arco ma soprattutto ha un contratto al momento che è ancora da rookie quindi essendo pronto ad entrare in Restricted Free Agent la prossima stagione c'è ancora la possibilità magari di lavorare di fare degli scambi ovviamente Brooklyn non penso sia così interessata a dar via il pupillo Cam Thomas però sicuramente secondo me aiuterebbe un po' come stile di gioco all'interno della squadra altro giocatore ancora migliore nel fit che troverebbe all'interno dei Sacramento Kings invece è Derrick Jones Jr sia perché magari se esposti comunque De Rosanne guardia come è giusto che sia lui alla piccola farebbe il suo ruolo sia perché ti porta magari non un impatto enorme ma ti porta quell'importanza 3 and D quindi sia triple che difesa ma anche attritismo al ferro che ha già dimostrato di saper fare soprattutto negli anni dei Dallas dove appunto è arrivato anche alle fasi finali secondo me quindi sono due giocatori che potrebbero essere utili potrebbero anche aumentare la pericolosità sia al ferro ma magari anche in difesa cosa che come hai detto tu è molto essenziale a questo punto di vista ritrovare per i Sacramento Kings sì perché tra l'altro Cam Thomas è un giocatore che spesso viene identificato come un buco nero in difesa però non è proprio così nel senso che è vero che è piccolo ma è una sorta di cubo quindi è anche difficile spostarlo questo ragazzo perché è veramente forte sulle gambe e tra l'altro Brooklyn quest'anno ne avevamo già parlato all'inizio ma è una squadra interessante da vedere perché diciamo nella nella melma delle squadre che non hanno non hanno una direzione non hanno comunque una squadra che sta comunque cercando di rimanere competitiva quindi mi piace mi è piaciuta questa idea qua sarei curioso volevo chiederti appunto come si sposava il fatto di avere un backcourt con De Rosan eventualmente e anche Fox perché perché sicuramente ci vorrebbero non tre palloni come la frase che dicono tutti sai però sarebbe sarebbe comunque interessante metterli insieme per Charlotte è evidente che abbia scelto diciamo una trade più fattibile e una che sarebbe un po' sui lunghi direi intanto sui lunghi esatto perché servono come come il pane diciamo e l'altra ovviamente sarebbe un po' più più fantasiosa più una una sorta di 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 sogno anche vedere una layup tra la Melobol e Zion Williams sarebbe veramente interessante però come hai detto tu prima Zion adesso si inizia a parlare del suo rinnovo va in scadenza l'anno prossimo prende 37 milioni Charlotte ha di sicuro le scelte da poter dare e ha anche dei contratti tipo quello di Mice Bridges tipo altri da poterci mettere per creare un pacchetto che a questo punto non è più quello per un All NBA ma per un giocatore che sicuramente è injury prone quindi facile agli infortuni è vero che andrebbe ad unirsi ad un altro giocatore come la Melo che è un injury prone quindi injury prone cioè facile agli infortuni pure lui però a questo punto tanto vale rischiare per Charlotte perché altrimenti poi il rischio è di perdere anche la Melo Ball che desideria andare da un'altra parte per quanto riguarda invece Jakob Polter credo che sia il perfetto esempio del lungo che servirebbe tanto ma tanto a Charlotte perché è un lungo di cui si sanno preci di difetti assolutamente ma sai benissimo ciò che ti può dare un altro giocatore molto assimilabile come tipo di giocatore ciò che abbiamo detto per Harrison Barnes cioè un veterano che sai quello che ti può dare e a Charlotte secondo me sarebbe molto utile perché darebbe intanto quei centimetri e quella stazza che in questo momento mancano ma anche una sorta di esperienza nello spogliatoio e anche nella lettura dei pick and roll con la Melo che potrebbe tirar su un po' il livello di questa squadra soprattutto per quanto riguarda il frontcourt non so cosa ne pensi tu di questa proposta però io li parei insieme addirittura però sai il problema di portare insieme la Melo e Zion di sicuro è quello fisico perché rischi veramente di fare una spesa enorme per poi avere nulla in campo io ve lo brevemente per chiudere farti un altro nome che mi era venuto in mente sui Charlotte non so se lo vedi com'è fattibile o comunque sensato che Jonas Balanziunas a me è sempre piaciuto come centro quest'anno è diventato riserva addirittura di Washington è una cosa inguardabile magari potrebbe essere un nome interessante se i GM vogliono ascoltarci esatto in caso comunque sappiate che si dovessero chiamarci se dovessero queste tre poi realizzarsi sapete da chi hanno copiato e poi sarà buon fine sì ma chiediamo il copyright e null'altro noi siamo gentili per questa puntata anche direi che ne abbiamo dette abbastanza quindi mi divertiva però salvate il soldato quello che ti sei inventato quindi salvate il soldato ovviamente il loro riferimento salvate il soldato Ryan in questo momento ha salvato i soldati Lamelo e Domantas perché poveretti stanno trainando l'esercito un po' da soli esatto però vabbè noi li salviamo perché come sempre siamo pronti a parlare bene di loro siamo pronti a dire quanto ci facciano divertire in campo ma anche fuori dal campo guardando la serie Starting File su Netflix come sempre vi ringrazio intanto di averci seguito vi ricordo di seguirci su tutti i canali di scaricare anche l'app canale Europa Sport e vi chiedo anche di aiutarci e seguirci sul nostro canale Instagram del nostro podcast quindi ht-alsteintalk come vedete anche durante le puntate portiamo sempre nuovi contenuti nuove rubriche che proviamo ad inventarci o proviamo a prendere spunto da vari video che si vedono online per questa puntata quindi è tutto l'appuntamento lo diamo sia stasera che l'NBA non so se hai visto è a orario italiano quindi molto bello ma soprattutto vi diamo l'appuntamento il prossimo venerdì e alla prossima puntata grazie Dani grazie a tutti i nostri ascoltatori grazie a te e buon NBA a tutti ciao ciao